Ciao ragazzi, prima di iniziare volevo dirvi due piccole cosette. Prima di tutto questa mappa è stata registrata con un nato parlante SNC e se le conseguenze si sente una specie di tremolio di sottofondo. Ho cercato di ridurre questa cosa con un software ma non è riuscita tanto bene quindi scusatevi se il microfono non è totalmente in alta qualità. Seconda cosa, questi video fanno parte della serie di 42 livelli che è il nome di questa mappa in cui ci sono dei livelli parkour, in cui dobbiamo fare delle particolari cose e direi che è venuta molto bene. Sperai che vi piacerà, vi raccomando mettete un bel pollicione in su, commentate e condividete. Ciao a tutti e guardatevi il video. Salve a tutti amici del Tupo, per tornare a te questo nuovo video di Minecraft. siamo nella mappa parkour, mappa nuova infatti questo è il primo episodio e stiamo un po' esplorando a giro. Ma che è questa bugata? I don't exist. Questo non esiste. Ah, ok, ok, ok. Ok, allora qua ci mostra tipo delle cose. Tipo questo blocco ci dà speed, velocità. Così c'è la jump boost. Sperò possiamo saltare fuori, c'è il creatore è un po' stupido. Ok, vabbè, kill, questo ci uccide. Ci ha ucciso. Sì, ok, ma dove mi ha spawnato? Perché mi ha spawnato là giù? Chi mi ha spawnato? Qual è? Aspetta, non è che per punizione devo fare questo piccolo tratto, non so com'è. Ma dai, come cazzo è possibile? Oddio, ragazzi, se era tipo un anno che non fa mappa parkour. Dai, mi c'è po' già qua, non è possibile. Manu, che hai perso tutto il tuo tempo. Che è successo? Cos'è mai successo? Dai, dai, forza. Oh, se ne ha calcato, dai. Cos'è questo? Velocità 4. Oddio! Dai, ma che è questa difficoltà? No, no, qua c'è qualcosa che non... Va bene, d'accordo, bisogna fare tutti questi salti qui. Ma, ma, Dio mio, c'è, non so, non ci sono abituato io. Cioè, questo blocco, ragazzi, c'è la velocità 4. È troppo devastante. Ok, dovremmo farla tutta arrasciando a bestia. No, 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 ah, allora, ok, buona. Ok, ho capito, bisogna farla tutta arrasciando a bestia, tipo così. Dai, dai, giuro, ragazzi, perché prima ce l'avevo fatta, eh. Ecco, tipo così, dai, dai, bravo, Manu, grande. Che cazzo è questo? Cosa fa questo blocco? Questa volta ha ampliato 4. Oh mio Dio, slime? Ma è bellissimo. Perché non si è non imbalzato? Ma che cazzo? Ma, che è sta boiata? No, devo rimbalzare, perché non devo rimbalzare? Boiing. No, sei lato. Su, ecco. Dai, bravo. Salta. Ci devo andare avanti. Se non vai avanti, è un caso. Ma devo guardare verso il passo? Cioè, devo guardare il blocco, se no non mi va? No, non mi va. È possibile che io ce la faccia quando lo registri. Beh, comunque, tiratevi, ragazzi. Non tiratevi tranquillamente. Non andate così. Ok, ora bisogna jumpare così. Ah, ancora più ghioso, eh. D'accordo. Su. Quasi. Falta. Bravo. Bravo. Oh, ce l'ho fatta. Perfetto, credo che la mappa sia tutta fatta così. Allora, quando mi vorrei dire cosa sia. Levitazione. Oddio, che figata, quant'è più levitazione, ragazzi. Cos'è questo? Questa cosa sia un blocco normale. Come cazzo faccio? Cioè, comunque è facile, poi andremo a giù. No. Però, ora non levito più. Via. Ah, ok. Easy. Poi, salto. E andare verso in cima. Quindi così. No, non così. Così. Ma... Ah, 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 ah. Devo levitare, eh. D'accordo. No, ma perché non devi levitare lì? Dai! Ah, qui. Ok, ok. Ce l'ho fatta. Allora, devo andare di qua. Devo stare molto attento perché se vado lì non levito più. Se vado sui blocchi quelli arancioni. Quindi devo andare di qua. E devo andare... Qui. Ok. Guarda, devo saltare qua giù. No! No, che leso. No, ma no. Se vuoi dare come ho fatto prima? Perché... Ah, così. Così, così. Però, dalla fila. Perfetto. Perfetto non è perché non ci riesco. Non mi ha giocato questo. Vado di cosa qui? Ah, se corro, vedi? Vedi? No, no, no. Non dovevo aspettare, non dovevo saltare subito. Cioè, ci sono tipo dieci livelli e se non mi muovo... Oddio, oddio. Dai! No! Pensavo di... Pensavo di... di... citare... e... e farcela come pensavo prima, ma... Non posso. Che palle! Dai, si schianta. Attenzione. Modalità talebano attivata. Ripeto. Modalità talebano attivata. Schiattati. Schiattati! No! Ma che... E andiamo? Sì, è bella. Per fare sta mappa, comunque, si sceglie troppo. Lo spreco di energia. Da championship del... del parkour... in vita... in vita reale su Minecraft. Hai completato la wool parkour che... che di Dio Cristo, quelli si che era difficile per me. Ficca sta qua. Però... anche se mi sta diseggiando uguale. Dai, forza, forza, forza. Cioè, perché questa comboiata qua è semplice? E non è da giù, che difficile. Ecco, ora non mi ha preso il salto, tipo... Dai, forza, dai, forza, dai! Ok. E ora, via! Zero. Dai, ok. Non è indietro. Fanculo! Fanculo! Fanculo, gioco di merda! Cosa potrebbe risultare un goccio più... più complicato? Allora, aspetta con una... Minchia! Che palle! Ah, ok, posso finire a cadere a tenere a questo? Salta! Oh! Finalmente ce l'ho fatta! Che cos'è questo? Le teste! No, com'è possibile? Dai, ma che... Ma che percorr'è? Ma... Con le teste! No, ragazzi, c'è, laggiù dove volete evitare. Perché con le... dobbiamo andare a prendere, dobbiamo andare forte, se no, si schiava. Non vuoi schiantare? Punteggio 1, eh, grazie, zero livelli. Piano! C'è questo, 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 questo aiutami tu. Il teste, però, il dito, la c'è, la c'è, la c'è, la c'è, la c'è. E' strano. E' strano, è brutto, è brutto strano. Salta! Bravo! Sembra di non arrivarci, ma ci arrivi con queste teste qui. Salissime. No! Allora, calma. Non mi chiede, no? Se non deve smettare così, per le teste. Oh! Ora sto levitando. Sì. Sì? 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 Perfetto. Oh, non va male. Questo non è un blocco, lo sappiamo. Quindi. Che cazzo? Ah, no, quello è un blocco. Quello non è. Quello sì, quello non è stesso. Ah, ok, questo mi pare un goccio più semplice, potete prendere. Vabbè, però devo andare a roma, lì, eh. Poi devo andare di qua, perché quello lì non è un blocco. Buono. Poi devo andare di qua. Qua. Qui. Qui. No! Era così in fondo. Grazie. Sei. Piano. Piano. Ok. Perfetto. Qua? Oddio, un altro. No, un altro di questi. No, no. Ragazzi, questo è l'ultimo, se no veramente è un casino non fare tutti. Stai vivendo, santo Dio. Due ore dopo? No, ragazzi, veramente sono santa azione. Guardate, cioè, qui ci salto, no? Ma in teoria, sullo zelo in blocco, non si salta. Cioè, ti rimbalza da solo. Perché come ti va? Sì, Allora ragazzi, dopo tipo, non vedere quante morti c'è, guardate, è un brutello, ho capito come fare. La pratica bisogna a metà salto fermarsi e poi ridare questo pollo. Tipo una cosa del genere, guardate. Tipo, no, come ne ho detto. Può fermarsi e andare avanti e risolzare. Almeno io ho ora fatto così. Se fa così non lo so. Ok, 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 Fino a qua ce l'abbiamo fatta. Dopo tipo, quanto un quarto d'ora che lo sto provando. Ora bisogna andare lì. Oh, che bello, che bello, che bello. Facciamo l'ultimo abbassare, ragazzi. Vedete, l'ultimo. Eh, un altro di questi qua, abbassare. E qui. Fa saltare neanche qua. E dai, se no, il blocco faccio. Fami saltare. Oh, vieni. Non c'è. No. No. Mi ha saltato adesso l'ora. Non c'è che salti l'ora. Che cazzo. Ah, da qua, io non tocco nulla. Ora mi ha saltato da solo. Minchia, prima dovevo saltare. No. No. però, ci ho camminato sopra. Perché? Ecco, è bugato. Ah, pensavo se fosse bugato il programma di registrazione. Non mi registravo più. Non so se ce l'abbiamo. Guardate, buga che è quello? Minchia. Bravo. Ok, bravo, mano. Salto. No, meglio. Perfetto. Sì. Ho saltato dopo. Devo vedere. Oh, mi sono toccato di molire. No, davvero. Cazzo è qua. Salta. Devi saltare. Devi saltare? Forse non l'ha capito. No, no. Per favore. Oh, grazie. Oh, ora devo andare avanti. L'unica volta che salto è non vado avanti. Vai avanti. No, troppo. Ora, non ha saltato. Bug. No, no, ma, raga, ma il problema è che sta bugando il gioco, perché io salto sopra lo slime block. Lo slime block non mi fa saltare. Sta proprio bugando il gioco pesantissimo. io sto atterrando sui cosi qui. Dai. Dai, per favore, santo Dio. Oh, ce l'ho fatta. No. Una volta che ce l'ho fatta. stai tipo smontando con i classi. Un casino. Oh, un casino veramente. Oh, dai. A me lo ti prego, no, ma devi saltare prima. È troppo difficile, c'è pochissimo spazio per saltare. Ragazzi, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, se l'ho fatta. Sì, qua. Oh, perfetto. Reset. Oddio, cos'è? C'è anche reset. Comunque, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordate di lasciare, se sì, un video vi piace, condividete il video, iscrivetevi al canale. Mi raccomando, se veramente vi piace questa miniserie parkour, fatemelo sapere con un commento, magari dicendo se l'avete provato anche voi e se vi è sembrato così difficile. Io vi saluto, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.